Due mesi dopo... Permesso? Avanti! Drake? Non c'è nessuno! È in casa? DJ... Non sono qui per infierire, voglio sapere se Duffy le ha detto dove sarebbe andato! Qualcuno? Ho sentito che l'iccio idò... Si aspetta... Ma cosa... Sta facendo la doccia? Un momento! Smattertelo! Eh, non si usa più bussare? Perché continui a torturarmi? Che cosa ho fatto io per... Solamente! Oh! Ecco... Ho appena licenziato il figlio della nostra superstar! Wow! Una giornata che vale tutta una carriera, Kate! Ti sei sbarazzata dell'anatra che tutti odiavano e subito l'hanno rivoluta indietro! Ehm... Ma la cosa peggiore è stato lo scontro con Bugs Bunny! Che tu veneri! E al quale ti sei ispirata come modello di vita! Oh, non sopporto di veder piangere un adulto! Soprattutto se è una femmina! Oh! Senti, fanciulla, chiuderesti le fontanelle se ti dicessi che Duffy era diretto a Las Vegas insieme a quel DJ? Oh! Può darsi! Molto bene! E che ne dici di raggiungerli comodamente grazie a questa? Ah, qui! Autista a Las Vegas! C'è qualcosa del giro? Mi vuoto a Las Vegas! Unatsate di sindoro! Machuanta! Pandora! Grazie a tutti. 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 Per nessuna ragione al mondo. Trey e la sua amatra dovranno uscire con le proprie gambe da questo casino. Sono stato chiaro. Va bene, lei vuole quei furfanti e quello che stanno cercando. Ho capito tutto. Ma che ci guadagna il brecchio, Sam? Oh, capito tutto. Lo sapevi che Dusty Tails ha cantato le melodie di sei film di Damien Drake? Sì, lo so, è mio padre di cacchio. Tu padre è Damien Drake? Sì. Calma, ti scherziamo, me l'hai già detto. Ma che sì? Eh sì, ripeto, eh sì, ascoltatemi. Via le mani dal buffet e usatele per fare un grosso applauso per il prossimo artista. Se l'aveste già sentita calpare, ora non sareste qui. Ma basta degli scherzi. Permettete che vi presenti la grande BuzzFeed Faze. Ecco qua. Hai. Ehi, Dusty, devo parlare con te. Dusty! Come ti pare? Bad girl, bad girl. If you really want it, if not, get yourself a bad girl. Bad girl, bad girl. Basti, ti devo parlare. Sono il figlio di Damien, DJ. Cosa? E chi mi dice che siamo? Oh, una certa somiglianza c'è. Dove possiamo parlare?